Si registra ancora un decesso sulle strade della provincia di Lecce nella mattinata di domenica 8 settembre. A perdere la vita è Pasquale Prontera, un 75enne originario di Casarano. L'uomo stava percorrendo la strada provinciale 65 che collega Ugento e la Marina di Torre San Giovanni e tornava probabilmente da una battuta di pesca quando è stato colpito da un malore. Il 75enne quindi è immediatamente accostato. L'auto sulla quale viaggiava una Fiat Stilo presso una piazzola di sosta ha provveduto poi ad allertare la moglie e i familiari. A notare il corpo dell'uomo all'interno del veicolo è stato il figlio il quale si è recato sul posto dopo essere stato allertato dalla madre. La zona è stata raggiunta dai sanitari del 118 della postazione di Casarano i quali hanno cercato di rianimare il 75enne inutilmente. Il suo cuore aveva ormai cessato di battere. Insieme al personale medico e paramedico sul posto erano presenti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Casarano i quali, sentito il magistrato di turno, hanno provveduto alla restituzione della salma ai familiari per la celebrazione del funerale.